buongiorno buongiorno aiutami che cominciamo col doppiaggio in topolino gli amici del rally presto la voce a luigi che una guida turistica che ha un problema serio di raffreddore bandaggia bandaggia il raffreddore mi serve il tuo aiuto non riesce a fare la guida turistica e per me è la prima volta che presto la voce a un personaggio che sia io oh grazie paperina ma il mio vero problema è un altro in queste condizioni oggi non posso accompagnare un gruppo in un tour di roma e per giunta uno dei turisti e niente meno che robbie roberts mi verrebbe da pensare che io sono un po' paperino quando succedono delle cose che penso che succedono soltanto a me ma forse lo siamo un po' tutti no poi non è vero poi in realtà credo di avere il piglio di topolino che con ottimismo serenità e allegria i problemi cerca di risolverli topolino c'è se dovessi paragonare topolino paperino e pietro a tre piloti allora topolino mi viene in mente un po' quello amato da tutti valentino rossi no il più popolare topolino paperino è il mio amico andrea dovizioso che qualche sfortunella ogni tanto ce l'ha però è una persona cui vogliono tutti bene pietro pietro voglio bene a tutti i piloti forse pietro è quello che mi sta un po più antipatico non ce l'ho il pilota antipatico aiuta amiche grazie a voi robbie roberts ha dato al vostro tour di roma 5 stelle e questa è un'ottima cosa io vi invito con grande entusiasmo a seguire lui e i suoi amici cioè topolino e gli amici del rally dal 19 aprile su disney junior arriva la polpetta gigante bisogna fermarla topolino si mette di traverso la sfida lui e fa vincere paperino gli dice vai 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 giù tutto vai paperino questo qua chi è questo dovrei essere io è vero ha salvato il suo amico bravo collega e vai paperino paperino c'è e vince per una volta vince paperino bandaggia bandaggia topolino devi vincere la corsa nella serie topolino e gli amici del rally interpreto un personaggio che si chiama robbie roberts 4 5 bla bla 135 fatto ed è un cane antropomorfo sulla tipologia di pippo un cane molto elegante ben pettinato che noia ho già fatto questa scalinata è un po snob un po altezzoso uno che non si scompone molto resta sempre così compito robbie roberts non è uno che balla salvo poi divertirsi quando si ritrova in mezzo a determinate situazioni coinvolgenti divertire non ha il verbo che mi sento di utilizzare doppiare una serie di cartone animati o comunque una serie per bambini rispetto a un film è una cosa molto diversa perché essendo personaggi animatici si può divertire a caratterizzarli a spingere di più andare sopra le righe e ridammelo subito basta basta ho detto protagonisti sono topolino pippo pluto e paperino e anche se forse fisicamente ho più affinità con pippo però il personaggio che mi sta più simpatico è sicuramente paperino che che è meno goffa meno ingenuo di pippo e che però è sfortunato per il quale credo di non essere il solo a tifare in ogni storia i miei appunti sono un disastro totale ma questo tour è stato una vera delizia vi do appuntamento per la messa in onda di topolino agli amici del rally il giorno 19 aprile alle 17 su disney junior grazie grazie